e ma oggi è gasato eh oggi è gasato di bestia vedi hai capito? hai capito dov'è? eeeh dietro il ciasso vai giù è lui eh! è lui! è lui che porta così eh! è lui! è lui! ho tirato indietro io, ho sbagliato io vai! il pano! quello! 5! era dentro eh! no! gasa! è stata la candela eh! adesso va bene! tutto guidato c'è assolutamente un bronchetto vabbè con il bronchetto c'è stato appoggiato la benzina ma non lo so ma è un po' in caso da ritorno questo è sassaiolo! vai! ah bravo eh! vai girare sopra il ciasso è giù! sopra? sopra scendi! scendi giù! legno! vedi più delle volte cosa vuol dire cambiare la traiettoria della cosa? vedi più delle volte cosa vuol dire cambiare la traiettoria della cosa? arrivi mezzo metro più in là non lo trovi più giusto eh! trovi più!